Il ritmo delle vaccinazioni va tenuto alto, in sostanza piede sull'acceleratore, continuare sulla strada intrapresa e fare sempre meglio, lo ha ribadito anche il governatore Toma, dopo la visita del commissario per l'emergenza, Covid Figliuolo, che ha avuto parole di apprezzamento per quanto sta facendo il Molise. Faremo ancora meglio, il generale mi ha promesso di dare continuità alle consegne dei vaccini che ci hanno anticipato, la tabella di consegne ce l'hanno anticipata stamattina, la linea di traguardo prossima è arrivare almeno ai trentenni, poi ci organizzeremo per arrivare, si pensa al vaccino degli under sedicenni però ancora non è pronto. Insomma, Toma vuole guardare all'estate come stagione in cui il Molise possa dirsi immunizzato. Guardi, noi abbiamo questo obiettivo, il 30 di giugno, potrebbe essere la prima settimana di luglio ma non oltre. Da oggi, dalle 9, ha preso il via l'adesione alla campagna vaccinale anche per la fascia di età 60-65 anni, la modalità è ormai nota, c'è una piattaforma a cui accedere adesioni-vaccinazioni-covid.regione.molise.it Occorre però tenere a mente che si tratta di adesioni e non di prenotazioni. Dalla regione spiegano che è una modalità per fornire l'elenco di chi intenda vaccinarsi, una sorta di mappa conoscitiva per permettere alle squadre di vaccinatori di organizzare il lavoro e dunque agire con più precisione e velocità. Viene ribadito che le linee guida saranno rispettate, cioè si seguirà l'ordine di età e non quello di adesione alla piattaforma. Ma in sostanza si continuerà a vaccinare smaltendo prima le fasce d'età che hanno precedenza, qualora per loro non siano ancora terminate le somministrazioni, come precisato anche dal direttore generale dell'ASRE, Moreste Florenzano. Devono essere curate tutte le categorie più fragili. Noi siamo a buon punto perché con gli over 80 e i fragili e i cosiddetti vulnerabili abbiamo quasi ultimato il target. Rimangono dei domiciliari che stiamo ultimando in questo periodo. Abbiamo fatto, stiamo facendo la categoria 70-69 e abbiamo aperto anche la categoria 65-69. La nostra intenzione è quella di mettere in sicurezza le persone delle categorie più fragili. Poi via via apriremo insieme alla cabina di regia che è la struttura commissariale regionale e la regione molise verranno aperte le ulteriori fasce. Per esigenze particolari esiste la sezione note sul sito regionale oppure gli indirizzi mail messi a disposizione dalla regione. Florenzano ha poi parlato degli accordi con i medici di base per le vaccinazioni. Abbiamo firmato un'importante delibera che è detta le linee guida per le attività dei medici di medicina generale per l'effettuazione delle vaccinazioni. C'è stato l'accordo nazionale, l'accordo in regione molise. Noi come ASREM adesso abbiamo regolamentato le linee guida per le attività e quindi a presto partiremo anche con i medici di medicina generale.